Ci troviamo in piazza Eno e qui come si vede da questa effigia dove è partita la strada nel 1916 che l'esercito italiano ha cominciato a costruire dall'abitato di Eno fino al passo del Cavalino della Fobia e adesso andremo a spiegarvi com'è questa strada Ciao a tutti, siamo in questa bellissima santellina che domina l'abitato di Eno per spiegarvi la strada militare che abbiamo fatto vedere prima questa strada militare partiva dall'abitato di Eno come dicevo questa strada sarà ricca di qualche segretino, non troppi diciamo però qualcosina avrà e adesso il genere italiano nel 16 nel marzo del 16 cominciò a costruire questa strada e la finì esattamente e solamente in 7 mesi adesso andiamo a raccontarvi questa storia la prima cosa che incontriamo è la deviazione tra le due strade che faremo una quella del santellone illuminata che andremo a spiegarvi nel prossimo video questa qua davanti e l'altra quella che andremo a fare noi adesso siamo fermati in questo posto per raccontarvi due cose importanti primo qua vi era un baraccamento del genio italiano che era qua su questa strada qua per poter praticamente fare e presidiare questa strada sia qua che qua dietro e la sopra aveva i baraccamenti perché nello spostarsi dopo Eno la costruzione senza far andare su avanti e dietro le truppe qua sopra avevano spianato un pezzo di montagna e qua stavano qua dietro c'era la fonte dell'acqua e i soldati li facevano venire su con le salmierie venivano su portavano qua e da qua partiva il genio qui dentro c'era la baracca del capo del genio che faceva costruzione di questa strada che noi adesso andiamo a seguire questa strada poco più avanti aveva anche dei fornelli di mine che adesso vi andremo a far vedere e dopo altre due piccole chicche che racconteremo durante il viaggio uno dei caratteristici tornanti che aveva la nostra strada militare che aveva costruito dal genio che serviva per salire fino a passare dalla fobia come vedete qua adesso arriveremo a una delle abitazioni e una delle cose requisite dell'esercito durante l'esercito qua sopra però aveva una cosa peculiare che l'esercito da qui aveva un posto di osservazione per vedere per in fondo la valle per poter diciamo adesso non si può più con la visitazione ma loro avevano un posto di visualizzazione che serviva praticamente per dare l'allarme sotto a sopra o sopra a sotto con degli specchi ottici questa cosa qua è stata riportata sulla cosa del genio non ci avrei mai pensato eppure era una cosa del genere sopra questa tornante questa strada qua però è famosa anche per gli anni 90 dall'80 diciamo al 2000 per la prova speciale del cavallino della fobia del rally 1000 miglia questa qui invece era una delle tante cave che usavano per fare la terra compresa quella del lago che c'erano giù per poter fare per poter costruire questa bellissima strada sono matti a quello che era una volta la locanda a bella vista ma prima di diventare una grande a bella vista era un fionile che è stato requisito dell'esercito italiano e poi ha modernato per poter tenere le persone qua del genio che controllavano questa strada e qua saliamo sempre di più verso il passo del cavallino della fobia sulla nostra strada militare qua siamo arrivati a un piccolo caposaldino diciamo non così caposaldo ma un piccolo luogo particolare la madonna di roane che adesso vengono a raccontare così era la madonna di roane e qui invece l'esercito italiano aveva costruito una mulattiera che diciamo aiutata soprattutto dai fedeli che dal santellone veniva in giù la madonna di roane per venerare tutte e due le madonne ma qui adesso vabbè è stata allargata però avevano fatto questa bypass per poter andare sulle due strade militari che avevo raccontato prima perché come avevo detto prima sotto c'era un incrocio avevano fatto le due strade militari una che andava verso il santellone e una che veniva su a cavallino della fobia e da qui era il bypass più veloce per sportarsi a piedi tra le due strade siamo alla madonna di roane e qui come si dice questa madonnina soprattutto in questo posto qui l'esercito italiano come ho detto prima il genio che veniva a costruire questa strada si spostò da sotto e arrivò qui con i suoi campamenti e le sue tende ma da qui era anche importante perché noi da qua adesso cominciamo a vedere il passo del cavallino della fobia che resta dritto davanti a noi e il genio da qui si era messo qua per cominciare a studiare come fare a procedere la strada infatti da qui alla madonna di roane si parla di come si è venuto qui per poter trazzare la strada che porterà al cavallino della fobia e se noi qua è molto diciamo imboscata però da là cominciamo a vedere cocaveglia 3 cioè la caserma che era prima del passo e noi arriveremo fino là altra cosa un tenente che era a distanza qui dice che lui ha avuto la fortuna di questa madonna del roane che la pregava perché lui voleva restare qua e non voleva andare in un posto di guerra dove poteva rischiare la vita perché qua era un posto di retrovia qua era un posto dove 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 potevano star qui freddo fame ma qui non c'era la guerra e questo geniere pregava tenente che pregava di stare la madonna per farlo star qua di più possibile e per non portarlo infatti ai nemici un grazie a tutti proseguiamo la nostra strada nel punto dove ci sono ancora i tre panettoni lì così in quel punto lì fino in fondo alla curva se si scende ci sono sotto due fornelli di mina che servivano per far saltare quel pezzo qua di strada che portava il cavallino della fobia e adesso proseguiamo il grande il viaggio quasi alla fine della strada gli ultimi 500 metri ci attendono qua davanti c'era questa che era la caserma dell'esercito italiano una delle tre caserme di Coccaveglie e soprattutto una delle cinque del comune di Capovalle e questa come vedete adesso che è di vita a centro estivo per i ragazzi come tutte e tre le caserme di Coccaveglie gestite da un grandissimo prete che è vent'anni che mi... 40 anni che verrà qua e niente qua ne parleremo approfonditamente in un altro video però questa è una delle altre opere che è stata fatta con la strada e adesso proseguiamo proseguiamo per l'ultimo pezzo di viaggio fino ad arrivare all'incrocio del cavallino della fobia e qui finiva il cavallino della fobia la strada militare e non il cavallino della fobia da qui prendiamo a prendere il manus che abbiamo già raccontato qui davanti quella di Treviso che racconteremo e qua davanti ancora quella del cavallino della fobia quello che va verso Rio Secco Grazie a tutti